Ciao a tutti, sono Giulia del Voghera Film Festival. Vi annunciamo che il bando della decima edizione è ufficialmente aperto, quindi potete iscrivere la vostra opera su Film Freeway a una delle nostre quattro categorie. Le categorie del festival sono cortometraggi, cortometraggi horror, sceneggiature di cortometraggi e la nuova arrivata per l'edizione del 2022, ovvero sceneggiature di lungometraggi. Quindi iscrivete la vostra opera su Film Freeway e seguite anche il Voghera Film Festival sui nostri canali social Facebook e Instagram. Ci vediamo a ottobre con il festival. Ciao!